Ecco, io ho intitolato e si aprissimo alla concorrenza. Il problema del trasporto pubblico in Italia è soprattutto dovuto al fatto che vive in un mondo felice. Nessuno gli chiede di confrontarsi con altri competitori. Noi all'università, per prendere i soldi della ricerca, e non ce l'arrivano così da Babbo Natale, all'università noi dobbiamo concorrere a livello internazionale perché i soldi arrivano dalla Commissione Europea e dobbiamo fare dei consorsi internazionali che concorrono per prendere i soldi sulla ricerca. Quindi questo è la concorrenza. È un fatto molto positivo perché stimola le persone a migliorarsi. Possiamo andare avanti. Ecco, questo è un piccolo riassunto dell'Atac. Vedete, è una grande azienda. Trasporto pubblico in Italia è fallita da tempo. Nessuno lo riconosce. È fallita, poi i dati che ci farà vedere Mastrantoni lo dimostreranno. Però viene mantenuta in vita, vedete, con continua infusione di denaro dei cittadini. E tutti i politici nostrani, vedete che non lo accettano. Il Senato si è inventato un commissariamente, un successivo affidamento al MIT. Quindi l'azienda fallita viene risuscitata attraverso sempre dei finanziamenti pubblici, secondo i promotori lì al Senato, attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E la nuova giunta in Roma invece è per lo Stato suo. Si è subito affezionata a questo povero malato, quindi bisogna curarlo. Si può fare tanto. Nel passato l'hanno trattato male, gli autisti sono stati rimproverati, eccetera. Le ferrovie dello Stato sono interessate. Le ferrovie dello Stato sono le più pericolose. Perché sono le più pericolose? Perché intanto sono finanziate sempre dal Tesoro. E mi pare dicevano circa 8 miliardi l'anno dal Tesoro. E le ferrovie dello Stato vogliono farne un boccone unico. Vogliono prendersela tutta, come hanno fatto a Firenze, come hanno fatto a Perugia. Si prendono tutto e quindi creano e mantengono il monopolio. E quindi la concorrenza non se ne parla. Mentre voi sapete che la Gcom ha detto chiaramente che le gare che devono essere fatte devono essere fatti per lotti piccoli, contestabili. Non possono essere fatti per solo soggetti come Ratepeo, Arriva o le nostre ferrovie. D'accordo? Quindi devono essere fatti per lotti piccoli. E tutte queste cose di cui si parla, poi c'è una normativa che obblia a fare le gare. E non è tra 2.000 anni, è tra due anni. Qui vi ho riportato, perché poi tutta la parte finanziaria e economica la tratta primo, vi ho riportato invece il servizio. Questi sono i servizi di trasporto dell'Atac dichiarati nel 2013. Questa è la loro dichiarazione, questi sono i nostri servizi. Vedete, io ho lì circoscritto ai primi due, gli express e alta frequenza, i servizi che sono ritenuti urbani. Cioè io mi ricordo un colloquio ebbi con un dirigente di Londra che diceva che i servizi sono urbani quando la frequenza è 10 minuti, non più di 10 minuti. 10 minuti non è più un servizio urbano. E qui che stanno intorno ai 10 minuti, noi abbiamo solo il 20% delle linee. E vedete, le altre ci hanno delle cose incredibili. Ci stanno oggi, c'era il primo che mi ha detto guarda se vieni qui ti paghiamo il taxi. Quindi io ho portato pure il proiettore, non sapevo che c'era questa. Però io vado spesso invece sul trasporto pubblico. Bene, io prendevo l'87 a Colosseo. L'autobus successivo a quello che stava arrivando, 87, passava dopo 25 minuti e siamo al Colosseo, al centro di Roma. Quindi questi dati dichiarati sono molto lontani poi da quelli che effettivamente fanno. Io ho fatto una scenetta, sono il nuovo dottore, non si preoccupi, con l'aiuto di queste macchine la teneremo in vita per sempre. Ho fatto un rapido calcolo, costa 100 mila euro ora. Queste macchine per ritenerlo in vita è il nostro ATAC. Ma è possibile fare qualcosa? Perché adesso uno è che possa lamentarsi che cosa è in funzione, i servizi fanno schifo, eccetera. No, bisogna fare qualche cosa. E allora intanto bisogna cominciare a guardare oltre Alpe. Vedete che gli altri paesi si comportano un po' meglio di noi. In alcuni casi molto meglio. Guardate il Regno Unito, la Germania, la Francia un po' meglio, ma non tanto meglio. E quindi abbiamo degli esempi, esempi fuori, a vedere come mai quelli del Regno Unito che costa 0,8 euro per chilometro di contributi, quando a noi 2,4, che succede? C'è una grande confusione, nel senso che la programmazione nei paesi sani la fa lente attraverso delle sue agenzie. Mentre qui c'è confusione. Per esempio, è interessante che le ferrovie si presentano come no, perché noi promuoviamo l'intermodalità. Ma non sono loro che devono promuovere l'intermodalità. Loro devono gestire, devono fare l'esercizio. L'intermodalità è un discorso di programmazione e la deve fare l'ente pubblico. Qui c'è la grande confusione che è importante, perché passare alle gare significa che io ho un'agenzia, una società, un consorzio, io ho ente pubblico o insieme di enti pubblici, che è molto efficace nel fare la programmazione. Perché se mi manca questa efficacia di programmare e di controllare, e faccio le gare, le gare vanno peggio di quello che è adesso. Quindi deve avere un'efficace ente di programmazione e di controllo. Esempi, qui abbiamo portato alcuni esempi di agenzie, vedete Londra. Londra per me è un grande riferimento, ve lo dico subito. Non è Parigi il grande riferimento, è Londra. È Stoccolma, è Barcellona. Vedete, tutti hanno dei grossi esempi, quindi società e consorsi, vedete fatti con altri distretti o comuni. Questi sono i tipi di contratto per i servizi che vedremo successivamente, giusto per ricordarvi, c'è il net costo in cui l'azienda riceve un contributo pari alla differenza tra i costi di produzione e i ricavi. Stimati. Invece gross costa l'azienda non ha problemi di ricavi perché gli viene pagato il servizio. È quello per esempio del contratto di servizio con Trenitalia. Infatti io non trovo mai un controllore sopra i treni, i treni italiani, non mai sui treni regionali. Non trovo mai un controllore perché non mi frega niente di incassare, perché intanto loro vengono pagati per il servizio. risparmiano il controllore e è tutto guadagnato. Chiaro? C'è poi, vediamo adesso alcuni esempi. Questi esempi io ve li presento perché noi dovremmo muoverci in qualche modo in questa direzione. Londra è un grande esempio, ma è un esempio che richiede, come vi dicevo, un apparato di programmazione eccetera con grande valenza. Non è semplice da mettere in piedi. Vedete come funziona? Fa procedure di gara per linea o per pacchetti, ma spesso per linea. Quindi mette in gara una linea, perché a lei non gli interessa niente, perché è programmato. Cioè il servizio non è che gli interessa che FS dica io faccio l'intermodalità. No, è programmato. Tu devi fare quello che ti dico. Poi l'intermodalità ci penso io perché l'ho programmata. Sono io che c'è la coincidenza con l'autobus quando arriva il treno. Non sei tu, non ho bisogno di te che ti preoccupi. Sono io che faccio un programma e assegno i servizi. Vedete le gare sono ogni due o tre settimane. Quindi è una cosa molto continua. Quindi appunto vi dicevo, serve un'agenzia con grande capacità di lavoro, che non è facile trovarla. No? D'accordo? Questa è fondamentale, l'agenzia o l'autore come si vuole chiamare. E annualmente circa il 20% dell'intera rete di Autopiondra è messa a gara. Quindi è una sollecitazione nei confronti di coloro che vincono. Continua, c'è una pressione continua. Non è che diceva che per dieci anni non ci sentiamo più. No, ogni anno il 20% viene messo a gara. Queste sono le caratteristiche principali del modello londinese. Vedete, le gare sono tutte standard, perché si vuole fare in continuazione, se si possono inventare il modello di gara ogni volta. Quindi sono molto standard. E anche per la trasparenza. Tutti sanno com'è la gara prossima, perché è sempre la stessa. C'è una preselezione degli offerenti, in base a capacità finanziarie e gestionali, ma è abbastanza ampia. Obbliga a pubblicare le offerte ricevute. Ecco, il discorso della trasparenza inglese è molto importante. In inglesi c'è una trasparenza incredibile, per noi estremamente lontana. Pensate che quando scrivono qualcosa al ministero, fanno una tabella, ci mettono sotto il telefono di quello che ha fatto. Per cui uno gli telefono e dice pronto, non ho capito questa tabella, c'è qualche problema. È una cosa molto lontana dalla nostra cultura. Il Transport for London misura la prestazione e qualità, quindi c'è un controllo, quindi un lavoro che fanno, continuo. Gran parte dei contratti è tipo gross cost, quindi gli danno solo la rischio sulla produzione, sul costo di produzione, non si può preoccupare dei biglietti. E vedete, è previsto anche un rinnovo di due anni, con costante superamento delle soglie di prestazioni contrattuali. Quali sono gli impegni? Vedete, le fermate, deposi, veicoli, sono invece degli operatori, questo è un po' il problema, perché noi vogliamo che il mercato sia contendibile. Se io sono proprietario dei mezzi, il nuovo può avere difficoltà, a meno che, appunto, come nel caso di Londra, i lotti sono ridotti al minimo, cioè alla linea. Quindi chiunque può avere, oppure un italiano compra l'autobus e va alla gara, sul posto che dimostri che ha una capacità finanziaria. E poi c'è possibilità, in ogni caso vedete, raccolta dei dati sul servizio, quello poi adesso è tutto automatico, e anche l'Agenzia della Mobilità di Roma fa questa attività di controllo, però non è trasparente, nel senso che nessuno ha mai visto i controlli che loro fanno sull'ADAC, l'ADAC è controllata, loro vedono quando partono, se saltano le corse, eccetera, ma non sono trasparenti. Lì invece è tutto trasparente e vedete, mettono sempre la possibilità di rintrodurre l'in-house parziale e temporanea. In caso di scarso successo, se c'è qualche problema, loro sono sempre pronti a intervenire, non è che stanno nelle mani di quelli che hanno vinto, leono il contratto e intervengono. Questo pure è molto importante. Che cosa succede in Svezia? Quindi questo è Londra, Londra è un esempio, diciamo, molto difficile da percorrere, molto difficile perché, tenuto conto della nostra amministrazione. In Svezia ci sono queste agenzie pubbliche, authority, e si ricorre ampiamente alle gare. Ormai lì c'è tutto sulle gare, per sensazione di singole linee, anche lì o di piccoli pacchetti. Vedete, sempre piccoli lotti, come richiede l'agenzia della concorrenza italiana, perché siano facili e possano esserci tutti presenti, non solo FS, Arriva, RATP. Le agenzie possedono le principali infrastrutture e i servizi essenziali, mentre i veicoli sono le proprietà degli operatori. Importante, questo vi dico sempre, che il mercato continua a essere contestabile, non ci sia, appunto, FS perché vuole l'ATAC, perché poi non è più contestabile, si è acchiappato questo, e se lo tiene, ricrea il monopolio, poi chi lo manda via. E poi è importante invece che siano sempre contestabili, quindi siano sempre gare per piccoli lotti. Questo è Barcellona, è un esempio che mi piace, perché Barcellona intanto è mediterranea, è più vicina alla nostra cultura, e quindi forse siamo più vicini a Barcellona, che non a Londra, che è una cultura un po' diversa dalla nostra. Qui c'è un consorzio, questa autorità del trasporto metropolità, che comprende la Catalogna, il Consiglio della città di Barcellona, l'area metropolitana di Barcellona, che è una cosa a livello, diciamo, regionale. Il TPL-GOM è un sistema misto, che significa? Che viene gestito da un'azienda pubblica, però insieme a delle altre aziende che hanno vinto una gara. D'accordo? Quindi c'è una parte che la gestisce l'azienda pubblica, e però ci hanno 4-5 o più, adesso sono anche aumentate, aziende che gestiscono la parte restante e i servizi notturni. Questa è la, diciamo, l'organizzazione di questa regione di Barcellona. Vedete in alto ci sono tutti quelli enti che sono nell'autorità del trasporto metropolitano. L'autorità del trasporto metropolitano, vedete, gestisce tutti questi trasporti metropolitani da Barcellona, operatori privati dei bus, ferrovie regionali, treni locali, eccetera. I servizi sono affidati con gara, sono pacchetti in linea raggruppati per distretti, ATM valuta le offerte, i contratti sono net cost, e quindi ci sono i rischi operativi commerciali, cioè devono pure essere attenti a incassare i biglietti, i soldi dei biglietti. Durano 5 anni, quindi è più, è un tempo più lungo, rispetto a quello di Londra, che c'è questo rinnovo ogni due anni, ogni anno del 20%, e sono rinnovati con una nuova gara, ma possono essere stesi per due anni. Quindi se sei stato bravo, abbiamo visto che nei controlli, noi te lo rinnoviamo automaticamente per altri due anni. ci sono tre tipi di contratti, alcuni sono regolari, gli obblighi di servizio pubblico, cioè sono delle linee che non le farebbe nessuno se non c'è l'obbligo di servizio. Altri sono esenti dagli obblighi, quindi devono essere in qualche misura profittevoli, ma quelli che sono veramente profittevoli prevedono un pagamento all'autority. Quindi io ti ho dato una linea che io so che lì ci guadagni sicuramente, perché è una linea che mi porta al sacco di gente, eccetera, e quindi addirittura mi paghi. Quindi vedete questa differenziazione che è molto importante. E si può fare proprio perché uno fa dei piccoli lotti, se faccio tutto, danno tutti insieme, quindi c'è quello che perde, quello che guadagna. E qui alcuni dati di uno studio che hanno fatto lì a Barcellona che sono dati all'inizio dell'esperienza, vedete, sono tutti abbastanza diciamo positivi. Vedete, il TMB è l'azienda pubblica, quelle date in gara, vedete, sono aumentate nel tempo come servizi, servizi misurati come penso le vetture chilometro, e vedete la quota gara pure è cresciuta nel tempo, quindi c'è stata una crescita dei servizi messi in gara. Questa è la crescita dell'offerta, e tenete presente che loro, TMB che è l'azienda pubblica è rimasta più o meno costante negli anni, mentre invece le altre sono cresciute. Sono cresciute perché adesso vediamo, sono cresciute come bas chilometro, questa è la domanda dell'offerta, pure lo vedete anche la domanda dell'offerta è cresciuta nel tempo, e vediamo qui i confronti per esempio sui costi, vedete che i costi, c'è una bella differenza tra quelli dati in gara e quella dell'azienda pubblica di riferimento, vedete che costa, quella meno costosa è 2 euro al costo chilometro, dati del 2006, la media è 3,27, TMB è 4,94, quindi questa di Barcellona è una cosa un po' mista, mentre Londra drasticamente proprio hanno fatto, quindi è una cosa più difficile da percorrere, questa dice no, io lascio questa azienda pubblica, però intorno gli costruisco delle altre aziende in gara con cui lei si deve confrontare, che io vedo che poi i confronti non è che sono molto positivi per l'azienda pubblica, questa delle analisi di qualità fatte negli anni e vedete la qualità pure è cresciuta, sia la qualità del servizio sia la qualità a bordo, complessivamente è cresciuta e quindi il modello di Barcellona qui ci sono i fattori di successo di questo modello, concessione di breve termine, rimozione del barriere all'entrata, incentive e penalizzazione del contratto per cui stimolare il miglioramento della gestione e un aspetto negativo assenza di un forte controllo sul TMB e il TMB è rimasta un po' quello che è l'ATAC da noi e lì tutti gli vogliono bene però avete visto che poi costa molto e scarsa contentibilità a causa dei contratti net cost perché i contratti net cost ovviamente riducono la contentibilità del mercato. Il caso romano con questo definisco che si può fare a Roma? Vedete che non è che noi stavamo a zero la capitale durante la giunta Rutelli e assessora mobilità Tocci avviò un bando di gara una cosa eccezionale fu fatta una cosa eccezionale perché era una giunta di sinistra Tocci era un uomo era un ingraiano uno che vuole fare male ai lavoratori il male ai lavoratori si fa quando ti lasci un cadavere in mano con i cittadini che protestano e lui diceva visto che se faccio le gare le cose possono migliorare e quindi ha fatto questa gara e questa gara poi è stata ripetuta nel 2010 e oggi gestisce circa 29 milioni di autobus chilometro però è una cosa surreale questa cosa che è rimasta lì che ogni tanto quando se ne parla se ne parla male perché non paga i lavoratori ma in realtà è un'azienda che è controllata perché l'agenzia della mobilità gli controlla tutte le partenze gli orari per cui se sgarrano c'è subito la penale e pagano diversi soldini in penale e allora ha fatto un confronto questo è stato fatto da due professori di Milano un confronto con Roma TPL Atac Roma TPL e vedete che è tutto è tutto dove vediamo vabbè Atac c'ha 161 vetture chilometri in milione e qui là c'è una 29 d'accordo però vedete le variabili operative vetture chilometro per dipendente una diversità enorme dipendenti per autobus c'è meno della metà costo vettura il 61% costo medio dipendente è tutto tutto positivo quindi non è che stiamo nell'inferno siamo condannati possiamo fare qualche cosa e fu fatto un inizio però Tocci dopo che fece questa cosa voi ve lo ricordate più io no hanno messo lui era vice sindaco potevano nominarlo sindaco avrebbe continuato in quest'opera quindi c'è un problema profondo di poter fare questa cosa con i nostri politici personale poco operativo dell'Atac vedete la differenza qui ci abbiamo quadri impiegati che Roma DPL è 1,1% e all'Atac sono 14,9% i dirigenti sono 0,1% all'Atac sono 0,7% 7 volte di più e queste sono le differenze che poi incidono sui bilanci e qui ho un controllo un confronto nel costo vettura chilometro vedete Atac Roma DPL vedete Roma DPL lì ci ho messo 4,5% però sarebbe 3,6% se non dovesse pagare gli oneri finanziari perché la cosa strana è che Roma DPL non riceve regolarmente i soldi dall'amministrazione comunale quindi tutte quelle cose che impagano questi stanno con grandissimi debiti presso alle banche che incidono sul loro costo vettura chilometro vedete di parecchio poi Roma DPL esternalizza anche una parte del servizio e costa ancora meno esternalizzato arriviamo ai costi chilometro tipo quelli di Londra 2,6% vedete Londra nelle aree metropolitane lì è un dato non di Londra ma delle aree metropolitane del Regno Unito vedete c'è 2,4% siamo molto vicini quindi poi i costi autobus pensavo se stessi i autisti quindi si può fare molto e quindi io finisco questa cosa e se ripartissimo da qui dopo solo 15 anni applausi 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 applausi